Si è svolta ieri sera a Piazza Fratti la presentazione del Civitavecchia. Di fronte a un numeroso pubblico, il club Nenazzurro ha festeggiato, in compagnia dei propri sostenitori, la partenza del nuovo campionato. Presenti tutti i massimi vertici del Civitavecchia, compreso il presidente Biondi, i giocatori della prima squadra e del settore giovanile. Durante la festa sono state presentate anche le tre maglie che il Civitavecchia indosserà. La prima naturalmente Nenazzurra, la seconda Bianca e la terza Gialla, a sfilare le modelle della scuola di portamento di Gloria Salipante. Non poteva mancare anche il super tifoso Roberto Giacomini che ha caricato tutto l'ambiente del Civitavecchia con la classica bottarella. Grazie!